da quando siamo nati non abbiamo mai seguito la retta via nemmeno nel modo di pensare forse è per questo che abbiamo tracciato strade nuove e sempre siamo arrivati la dove gli altri non riuscivano a seguirci e così che siamo arrivati a freeland facendo esattamente ciò che abbiamo sempre fatto e ciò che fanno le idee quando sono buone andando fuori strada grazie